Senatore Gianni Crosio, la Lega Nord che cosa ne pensa di questo decreto ambientale? Pensiamo tutto il male e il peggio possibile, per diversi motivi, su uno soprattutto. Questo decreto è un chiaro ricatto al Parlamento e agli italiani, per il semplice motivo che, come può un Parlamento giudicare serenamente su un decreto d'urgenza, che riguarda un decreto d'urgenza sull'ambientale, come possiamo essere sereni quando vengono accomunati i terremotati dell'Aquila con i rifiuti di Napoli, i rifiuti di Palermo e l'Acquedotto Pugliese. Questo è un chiaro ricatto al Parlamento, perché è legittimo e necessario intervenire per i terremotati dell'Aquila, ma anche quelli dell'Emilia Romagna. Noi addirittura abbiamo chiesto che il Governo intervenga per quanto riguarda l'alluvione di maggio in Veneto e anche in Lombardia, ma non ha avuto risposte. Il Governo non dà risposte per chi veramente ha necessità di avere chiarezza per quanto riguarda l'emergenza ambientale, però inserisce i rifiuti di Napoli, i rifiuti di Palermo e l'Acquedotto Pugliese ancora una volta. È una vergogna.